cari amici di super 3 ben ritrovati a una nuova puntata di cinema da mare in tv la il programma dedicato ai giovani registi filmmaker è ispirato a un importante festival cinematografico che si chiama appunto cinema da mare che percorre l'italia da nord a sud tutti gli anni da luglio ad agosto diventando trasformandosi in un cantiere digitale dove i ragazzi provenienti da tutto il mondo fanno film insieme si incontrano questo spazio televisivo è dedicato appunto a loro infatti oggi con noi in studio abbiamo un giovane regista daniele bellucci ben ritrovato dico ben ritrovato perché lui è stato e abbiamo conosciuto daniele appunto a cinema da mare in una delle tappe di cinema da mare come è stata questa esperienza guarda marcella è stata un'esperienza sicuramente sia pagante che divertente allo stesso tempo io sono da conoscenza di cinema da mare tramite un'amica e abbiamo deciso di partecipare a due delle tappe del festival le due romane quindi una leur e una san lorenzo e abbiamo vinto il secondo premio nella tappa dell'euro e il primo premio in quella di san lorenzo con un cortometraggio che ho portato io. Ah bene quindi sei venuto agguerrito. Sì diciamo di sì. Sì siamo contenti di averti conosciuto lì però tu qui oggi sei qua per parlare di un tuo progetto. Sì. Tu intanto sei laureato al dance. Al dance dirò magari. Sì e la tua passione quando è che nasce? La mia passione nasce durante gli ultimi anni del liceo e anche lì per gioco ho preso in mano una telecamera con un amico e abbiamo iniziato a girare delle scene da montare come se fossero un finto trailer di un film horror abbiamo passato un pomeriggio a girare ed una nottata a montare le scene è venuta fuori una cosa carina ci siamo divertiti molto e quindi entrambi abbiamo pensato che poteva essere divertente poter lavorare in questo in questo settore certo quindi da da quel punto mi sono iniziato ad interessare al cinema in modo un po più specifico e mi si è aperto un mondo infinito ho scoperto le potenzialità enormi che il mezzo cinematografico va e è scattata subito la scintilla d'amore diciamo. Eh sì si parla sempre di passione quando si parla di cinema ma tu prediligi questo genere un po particolare che quello dell'horror no? Sì tra le altre cose sì. Che è una passione di tanti ragazzi in effetti tu hai confezionato un trailer o hai un progetto che nasce mi pare nel 2009. Nasce sì due anni fa. Nasce due anni fa e questo progetto ti ha impegnato e ti ha assorbito completamente perché hai avuto dei risvolti particolari di cui parli parliamo dopo perché io vorrei che il pubblico guardasse questo trailer per capire di che cosa si tratta e per poi commentarlo insieme. Vuoi dire qualcosa prima che? No no possiamo vederlo e poi ne parliamo dopo. Va bene allora vediamo questi contributi. a Sì, questo è il minimo, la punta dell'iceberg, diciamo, di tutto il progetto. Sì, il progetto si chiama Left 4 Dead. Raccontaci come nasce questo progetto. Questo progetto nasce, come hai detto te, un paio di anni fa, con lo stesso amico con il quale è nata la passione per il cinema. Eravamo entrambi studenti di cinema durante quegli anni e volevamo cimentarci in un progetto abbastanza grande. Volevamo realizzare un cortometraggio o un mediometraggio di genere horror che rendesse omaggio ai film, agli zombie movie degli anni Ottanta e gli rendesse omaggio a modo nostro. Quindi abbiamo deciso di iniziare a lavorare a questo progetto. Subito dopo abbiamo avuto un'intuizione abbastanza geniale che poi si è rivelata vincente, diciamo. Cioè associare il nostro progetto ad un prodotto già lanciato da altri. E il prodotto in questione è stato questo videogioco che si chiama Left 4 Dead, che era uscito da un annetto e aveva venduto milioni di copie. E l'intuizione è stata giusta. Noi subito dopo abbiamo creato un sito in cui annunciavamo che stavamo lavorando a questo progetto, a questo film ispirato al videogioco. E questo sito ha raccolto una grande quantità di persone e di interessi all'interno del web. Ma io ti voglio chiedere, il titolo di questo progetto non ti ha creato problemi con l'azienda produttrice del videogioco? No, per molto tempo, e lo è tuttora, è stata una delle nostre priorità capire se potevamo farlo senza chiedere il permesso a nessuno. Visto che comunque il tutto è impostato come un progetto no profit, che verrà poi distribuito nel web gratuitamente, alla fine penso che non ci siano problemi di sorta. E a conferma di questo la casa produttrice del videogame ha pubblicato uno dei nostri trailer nella loro pagina ufficiale che hanno su Facebook. Questo suona per noi come un fate quello che volete. È un consenso. Ma prima di parlare di quello che è successo quando avete aperto il blog, il sito, eccetera, innanzitutto tu vorresti realizzare un lungometraggio? Sì, io punto a farne per ora un medio, 40-45 minuti, che potrebbe diventare un lungo a seconda di come si mettono le cose. La sceneggiatura? La sceneggiatura l'abbiamo pronta, sì, è uno dei nostri cavalli di battaglia, perché il blog che noi avevamo aperto, oltre ad attirare molto interesse da parte di fan, ha attirato l'interesse di professionisti, tra virgolette, del settore, o comunque ragazzi che lavorano nel settore, che si sono offerti di darci una mano, ognuno aveva la propria specialità. Quindi nel caso della sceneggiatura, un ragazzo americano che ha collaborato già con la Sony e con la DreamWorks a Hollywood, si è offerto di scrivere per noi la sceneggiatura, lui è uno sceneggiatore, quindi noi l'abbiamo subito arruolato immediatamente. Sarà un prodotto internazionale, dunque? Sarà un prodotto internazionale ed è stato pensato in inglese dall'inizio per mandarlo innanzitutto fuori dall'Italia e poi distribuirlo anche in Italia in qualche modo. Dunque lo volete girare in Italia? Quindi lo gireremo in Italia, le location sono italiane, sì. Gli attori italiani però in inglese? Sono tutti italiani però reciteranno in inglese, sì. Questo è stata un'altra intuizione, noi speravamo che facendo così avremmo attirato maggiore attenzione, soprattutto da parte della casa produttrice del videogame. La cosa curiosa è che praticamente tanti registi, tanti autori adesso negli ultimi anni fanno una specie di raccolta fondi, cercano i finanziamenti sul web, no? E tu hai voluto fare quello in fondo, l'hai fatto quello. È una strada che abbiamo percorso anche noi. Un po' di dollari, mi pare, che sono arrivati, insufficienti. Molti, però è stato anche quello un bel segnale alla fine. Comunque le persone oltre a seguirti, a dimostrare entusiasmo, si arrivano anche a donare dei soldi per aiutarti. Per noi è positivo, vuol dire che stiamo lavorando bene. Quindi la tua esperienza ti fa misurare veramente la potenza di internet, tutto ciò non sarebbe stato possibile. No, non sarebbe stato possibile. Un tempo. E la cosa interessante che ci dicevi prima è che adesso lo sceneggiatore sarà, viene da Los Angeles e forse gli effetti speciali da un'altra nazione. Sì, sì, abbiamo creato questa troupe internazionale di ragazzi che si sono offerti di aiutarci. Anche la colonna sonora è curata da un ragazzo canadese che ha un gruppo di industrial rock lì. E il sound designer è ungherese, quindi siamo molto... Di quanti soldi avete bisogno per girare questo film? Siccome abbiamo imparato a fare il massimo con il minimo, nonostante il progetto sia impegnativo e di soldi ne servirebbero parecchi perché comunque ci sono effetti visivi, effetti speciali, il doppiaggio, eccetera. E io penso che una somma intorno a 10.000 euro basta e non mi sembra una grandissima somma. Magari qualche sponsor privato ci ha scoperto oggi, magari riusciamo a fare questo film. Lo troviamo. No, perché è stupefacente come tanta gente, migliaia di persone hanno degredato il successo di questo trailer e quindi di questo... Però non sei riuscito a raccogliere questa cifra che veramente non è tanto elevata in fondo. Io pensavo magari il fatto che sia un genere particolare offerto magari ai ragazzi troppo giovani, magari che non hanno risorse finanziarie... Sì, infatti probabilmente uno dei problemi tra virgolette è quello lì, è che il nostro target diciamo è molto giovane e quindi noi abbiamo una pagina Facebook che conta 150.000 utenti. Insomma è il nostro orgoglio. Di questi 150.000 utenti la maggior parte comunque sono piccoli, quindi mi rendo conto che non tutti possono donare anche, non so, un dollaro, cinque dollari. Ecco, io so che ci tieni tantissimo a questa creatura, questa opera incompiuta diciamo, però forse dovresti anche andare avanti con altre idee e sfruttare probabilmente la piattaforma che hai creato. Non era questo lo scopo? Sì, questo era diciamo l'idea alla base del progetto, era creare qualcosa che avesse una risonanza importante nel web, visto che oggi molte cose, progetti soprattutto di questo tipo, si sviluppano nel web. E tramite questo primo esperimento poi lanciare altri progetti, altri cortometraggi o comunque lavori a quel punto di nostra invenzione, non ispirati ad altro, che quindi possono essere sfruttati in diverso modo. Quindi hai creato comunque qualcosa? Quindi abbiamo creato qualcosa, sì, speriamo di riuscire a portarlo a termine però, perché sono due anni che ci lavoriamo e vorremmo concludere. Questo te lo auguro, ma perché questo genere? Ti piace? Vuoi continuare su questo genere? Il genere sì, perché comunque mi piace fondamentalmente, è un genere che si rivolge ai giovani diciamo, è un genere di intrattenimento, io penso che il cinema chiaramente ha mille sfattamenti, accettature può intrattenere, come emozionare, come comunicare. Io in questo momento a 25 anni mi voglio innanzitutto divertire e quindi voglio cimentarmi in un genere come l'horror che permette a me di divertirmi. Qual è l'autore tuo preferito, il film preferito? Questa è una domanda difficile. Ah, di questo genere? Vabbè, io ho i miei padri da cui mi ispiro, Romero, il padre degli zombie movie, un modello di riferimento. Infatti ho rivisto i film di Romero per capire come strutturare al meglio il mio progetto. Ma forse ti sei distanziato da quella che è stata la formazione che ti ha dato il dance? Sì, un pochino sì. Penso che il dance, andando controcorrente con il mio pensiero, crea intellettuali, critici cinematografici e guarda poco a quella che è la funzione di intrattenimento del cinema. E io, come dicevo prima, siccome in questo momento ho 25 anni, voglio divertirmi e allora punto ad un progetto che sia di intrattenimento. Certo. E quindi cosa vorresti realizzare in futuro? Magari a cinema da mare? A cinema da mare? Sì, nella nuova edizione parteciperò volentieri, vista l'esperienza positiva che ho fatto lo scorso anno. Ma un ragazzo che frequenta il Dams oggi, che cosa gli diresti? Ah, no, gli direi di essere consapevole che frequentando il Dams non ne uscirà regista. E quindi il percorso che dovrà fare poi dopo l'università sarà comunque lungo, anche quello. A me il Dams ha lasciato delle cose, non mi ha lasciato le cose che mi aspettavo quando mi sono iscritto, però me ne ha lasciate altre, mi ha comunque fatto convincere che la strada e il settore che avevo scelto era quello giusto. E poi hai usato, eh, utilizzi la tua creatività per esprimerti naturalmente. E poi sì, poi va messo molto del proprio. Tecnicamente hai degli amici, una troupe, della gente che collabora con te per i lavori che fai? Sì, noi abbiamo un gruppo, siamo un gruppo di amici per altri lavori, non per questo, non per l'Efforded. Siamo un gruppo di amici che si è creato all'interno dell'università e siamo adesso una piccola produzione di audiovisivi, diciamo. Creiamo cortometraggi, videoclip, spot. Che macchinari avete? Abbiamo i macchinari che ognuno può mettere, che ognuno ha a disposizione, quindi macchine fotografiche, telecamere, luci, se qualcuno le ha. Insomma, i progetti nascono un po' così, un po' con quello che c'è a disposizione, almeno per ora. Ma puntiamo a crescere un po' anche in senso tecnico. Che cosa vorresti realizzare prossimamente, diciamo, oltre a questo Left 4 Dead, che naturalmente rimane lì, ce l'hai già un'idea o qualcosa che vorresti... Idee? Milioni nella testa, poi di questi milioni solo alcune si trasformano in cose concrete. E andare tu fisicamente all'estero? È una cosa a cui ho pensato spesso, ma per come sono fatto io caratterialmente non è una delle mie priorità. Io sento, soprattutto ultimamente, si sente spesso di questa fuga di cervelli, no? Persone che vanno all'estero in cerca di occasioni migliori. Io penso che le occasioni si trovano anche qua, se uno riesce anche a crearsele da solo, come può essere il caso di Left 4 Dead. Eh, ma non credi che forse è nell'unione, nella cooperazione con altre... Proprio a livello proprio di nazioni siamo un po' piccoli. Ormai il cinema italiano, quello tradizionale del realismo, eccetera, ha detto e ha fatto tutto. Adesso forse è la collaborazione con l'estero, forse... Ah, quella sì, penso sia... Ti dà molto, però tu fisicamente non ci avresti mai. Però io fisicamente non lo so, dipende dall'occasione che si presenta, se si presenterà. Va bene, va bene. Senti, Daniele, io, insomma, che altro dire, ti auguro, insomma, di realizzare soprattutto questo progetto. Naturalmente ti invito a Cinema da Mare, a partecipare ancora a Cinema da Mare, insomma, ti auguro veramente di cuore di andare avanti con la tua professione. Grazie. Va bene, grazie per essere stato con noi. Grazie mille, grazie della possibilità. Insomma, Cinema da Mare anche stasera ha parlato di giovani, di filmmaker e anche del festival che fa sempre più e diventa una famiglia sempre più grande e ospita sempre più gente che noi volentieri ospitiamo anche in questo spazio televisivo per ascoltare, per dare spazio loro appunto a parlare dei loro progetti e delle loro iniziative. Io questa sera vi auguro una buonanotte, vi do un appuntamento a giovedì prossimo e arrivederci ancora con Cinema da Mare TV. Grazie. Grazie.